L'offerta della settimana, professor Bennato, professoressa Bragaglia, professor Melelli Bennato, Bragaglia, Melelli, professor Bennato L'offerta della settimana, eccoli tutti e tre i nostri amici docenti Professor Bennato Eccoci schierati, pronti alle nostre valutazioni Allora per quanto mi riguarda, devo dire la verità, è una settimana di offerte cinematografiche Mi passi il termine un po' moscia, nel senso che Beh mica tanto, Woody Allen, Lai Pioccio Giusto, ma per come vedo io i film fondamentalmente non c'è niente che mi attrae Di Woody Allen ho visto praticamente tutto Solo l'ultimo che mi ha colpito è la Matchpoint Quindi se questa è una versione, diciamo così, aggiornata di Matchpoint Sicuramente andrò a vederlo, ma non con il cuore come ho visto la prima volta a Matchpoint Poi in realtà c'è un film che mi incuriosisce e che il male non esiste Perché mi piace molto questa idea della, diciamo così, della contrapposizione E diciamo così non bellicosa tra la capacità di, diciamo così, vivere in un contesto di ambiente La capacità anche di, diciamo così, di riflettere su quella che è l'equilibrio dell'ambiente E che ha nei nostri confronti e soprattutto che tipo di situazione ci viene a creare All'interno delle nostre vite Perché ovviamente l'ambiente è diventato ormai sfondo Soprattutto il cambiamento ambientale è diventato uno sfondo della nostra vita, della nostra società Quindi rifletterci anche con gli strumenti che il Cile mette a nostra disposizione Ci fa capire quanto ormai non sia semplicemente un discorso circostanziale Ma anche molto strutturato Per quanto invece riguarda altri film che mi hanno colpito Sono rimasto molto molto colpito di Eternal Memory Perché fondamentalmente per due motivi In primo luogo perché c'è una riflessione sull'Alzheimer Che veramente quando si parla di memoria, di identità e memoria È qualcosa di veramente, diciamo così, molto crudo, molto violento Perché noi in parte siamo, la nostra identità è definita anche in parte dai ricordi di cui siamo costituiti Quindi da questo punto di vista l'Alzheimer è una malattia veramente terrificante Poi ho visto anche diversi trailer, diverse rappresentazioni online E ho visto che in realtà il film è molto crudo, è molto diretto Soprattutto cerca di riflettere su come l'identità si può ricostruire anche all'interno di una coppia E come una coppia, l'amore di una coppia può provare a mantenere stabile questa identità E poi c'è questo fondo legato soprattutto ai Desaparesidos Perché ovviamente Augusto Gongora è un giornalista molto importante È stato un giornalista molto importante e quindi riflette anche sulla storia dei Desaparesidos Quindi questa è la cosa che mi ha colpito di più di questa settimana cinematografica Anche se, confesso, devo recuperare anch'io alcune pellicole Professoressa Bragaglia, professor Benato, professoressa Bragaglia, professor Melelli Commento alla classifica Professor Benato Beh, la classifica, diciamo così, a me fa molto piacere di vedere un sacco di pellicole italiane Anche perché ce ne sono alcune che mi piacciono molto Tipo Palazzina Laff, tipo Centodomeniche Che sono dei film più, diciamo così, per riflettere sulla società italiana contemporanea Che secondo me ne abbiamo bisogno anche perché molto spesso, diciamo così, la cacofonia delle notizie che arrivano dal mondo Non permettono molto spesso di fermarci a riflettere su quello che sta succedendo nel nostro paese Mi fa molto piacere vedere Diabolic perché sicuramente Diabolic colpisce la mia immaginazione, la mia fantasia Ed appassionato di fumetti E quindi questo è un aspetto interessante Sono molto contento che ci sia la persistenza e la permanenza in prima posizione di C'è ancora domani Anche se sono meno ottimista delle riflessioni che ho sentito Perché mi sembra che questo film si sia guadagnato il primo posto fondamentalmente col passaparola Quindi appena ci sarà, diciamo così, un cambio di pellicole Ci sarà anche, diciamo così, si ritornerà a vedere una contrazione Temo, una contrazione della presenza in sale nelle pellicole italiane molto consistente Professoressa Bragaglia